Il covid anche a causa della nuova variante Omicron sta galoppando sempre più velocemente nei contagi e quindi necessario per poterlo fronteggiare un sempre più accurato screening per rispondere ai grandi numeri dei pazienti contagiati e per evitare il ricoveri improprio a gravamenti di condizioni del quadro clinico dei pazienti occorre garantire cure e salute a tutti senza falle. A ribadirlo in una nota sono i consiglieri comunali di Salerno del Movimento 5 Stelle, Elisabetta Barone, Catello Lambiase e Claudia Pecoraro che sollecitano la necessità di potenziare le USCA, le unità speciali di continuità assistenziali che per la complessità del territorio cittadino e il numero di abitanti in città Salerno dovrebbero essere tre, come da decreti nazionali e regionali. Almeno una di esse dovrebbe essere situata in una zona facilmente raggiungibile come potrebbe essere la caserma Angelucci di Pastena con la richiesta della collaborazione dell'esercito nella gestione. Attualmente le due USCA sono collocate al capitolo San Matteo nella zona industriale e sono raggiungibili solo in macchina. Inoltre in rapporto al numero delle scuole un'USCA dovrebbe essere dedicata agli studenti ma allo stesso tempo le USCA dovrebbero garantire l'assistenza domiciliare così come le aggregazioni funzionali territoriali di medici e di medici di base in coordinamento tra loro dovrebbero seguire e gestire i vari pazienti con immediatezza ed efficacia anche dividendo il territorio cittadino in zone. Attualmente le USCA non hanno ancora i necessari strumenti per le diagnosi nonostante sia trascorso un anno dall'abbio delle varie gare d'appalto. Gli attuali monoclonali e gli antivirali che saranno disponibili a breve e potrebbero essere utili per questa variante sarebbe opportuno organizzare un'eventuale distribuzione o somministrazione domiciliare come peraltro avviene in altre ASL campane e non solo a Scafati ed Agropoli come succede all'ASL di Salerno. E' il commento dei consiglieri comunali di Salerno del Movimento 5 Stelle Elisabetta Barone, Catello Lambias e Claudia Pecoraro. Dobbiamo scongiurare continuano il blocco totale delle attività mediche chirurgiche ordinarie degli ospedali anche se già alcune attività diagnostiche ambulatoriali sono state bloccate o addirittura si sta riscontrando difficoltà nella gestione delle emergenze al pronto soccorso del Ruggi. Per questi motivi proprio questa mattina la consigliera comunale Elisabetta Barone ha chiesto in commissione politica e sociale un incontro con il responsabile Covid dell'ASL di Salerno, il dottor Arcangelo Saggese Tozzi, per sapere che tipo di soluzioni immediate si intendano intraprendere. I consiglieri comunali di Salerno del Movimento 5 Stelle, Barone, Lambiasi e Pecoraro in una nota chiedono anche che le farmacie comunali effettuino i tamponi gratuiti a un prezzo calmerato di 5 euro almeno per gli studenti. Anche il consigliere comunale di Salerno, capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano, in un'interrogazione a risposta scritti orale chiede di sapere se e quando il sindaco e l'amministrazione comunale intendano intervenire per richiedere alle istituzioni preposte Regione e ASL il rispetto del decreto 14 del 2020 e la conseguente istituzione di ulteriori al fine di raggiungere il numero previsto dalla norma in relazione agli abitanti di Salerno così come l'impiego di un adeguato numero di operatori sanitari.